Le incredibili proprietà del prezzemolo per i reni. Oltre ad avere proprietà diuretiche e favorire l'eliminazione dell'urina, il prezzemolo contribuisce a prevenire anche la formazione di calcoli e di calcificazioni renali. I reni sono due organi a forma di fagiolo che si trovano nella parte posteriore della cavità addominale, appena sopra la vita. Sono probabilmente i principali sistemi di filtraggio del nostro sangue, dal momento che si fanno carico dell'eliminazione di tutto ciò di cui il nostro corpo non ha più bisogno attraverso l'urina, e trattenendo solamente le sostanze dalle quali esso può trarre vantaggio. Le funzioni svolte dai reni, però, non si fermano qui, hanno anche il compito di regolare la pressione arteriosa, stimolando la produzione di globuli rossi, e partecipano alla formazione dell'equilibrio idrosalino. Sopra ciascuno dei reni si trovano le ghiandole surrenali, che svolgono una importante funzione di regolazione della risposta allo stress. Il prezzemolo è un'erba medicinale dotata di numerose caratteristiche benefiche per i reni, dal momento che li aiuta a rinforzarsi in modo assolutamente naturale mediante la corretta stimolazione delle loro varie funzioni. Risulta anche molto utile nella prevenzione dei calcoli renali. In aggiunta a tutto questo, il prezzemolo è un eccellente depurativo dei reni. Questo significa che il consumo regolare di prezzemolo ottimizza le loro funzioni sia dal punto di vista depurativo, sia dal punto di vista disintossicante. È anche un efficace digestivo naturale, ideale nel caso di digestioni lente o per alleviare gli spasmi intestinali. A questo proposito, aiuta anche a regolarizzare il transito intestinale grazie al suo contenuto di fibre. Il prezzemolo, essendo ricco di vitamina C, è utile per rafforzare il sistema immunitario in modo completamente naturale. Infuso naturale di prezzemolo per i reni ingredienti 1 mazzo di prezzemolo, 30 g, 3 tazze d'acqua, 750 ml, utensili 1 pentola di metallo Preparazione Aggiungere le 3 tazze d'acqua nella pentola e riscaldarla a fuoco medio. Prima che l'acqua cominci a bollire, togliere la pentola dal fuoco e aggiungere il prezzemolo. Lasciare riposare per 15 minuti, e poi colare. È necessario assumere questa bevanda almeno 3 volte al giorno, anche dopo ogni pasto. Frullato di prezzemolo e cetriolo Ogni giorno i nostri reni lavorano per purificare il flusso sanguigno, eliminando il sale assieme a qualsiasi elemento che possa causare danni o contaminazioni. Si tratta di un lavoro estenuante per questi organi, e la situazione è anche peggiore per chi ne ha solo uno, in molti casi sorgono complicazioni. In questo senso, il consumo di prezzemolo può aiutare a migliorare la vostra salute. Tramite l'ingestione giornaliera di prezzemolo, contribuiremo all'eliminazione immediata delle tossine dal nostro organismo tramite l'urina. In questo modo, disintossicheremo i reni dalle sostanze dannose. Ingredienti 1 cetriolo 1 mazzo di prezzemolo 30 g 2 tazze d'acqua 500 ml Utensili Frullatore Preparazione Inizieremo tritando il cetriolo in pezzetti molto piccoli. Taglieremo poi il prezzemolo e lo aggiungeremo al cetriolo nel frullatore. Frulleremo il tutto fino a ottenere una crema omogenea. Serviremo e ne berremo due bicchieri. È consigliabile consumarlo a digiuno e prima di andare a dormire. Frullato di prezzemolo e ananas per disintossicare i reni innanzitutto è bene sapere che oltre a produrre urina, i reni svolgono una funzione molto importante per l'intero organismo. Svolgono l'attività di filtri del sangue, che viene ripulito da tutte le tossine e dai residui che verranno poi eliminati con l'urina. Stimolano anche la produzione di globuli rossi e contribuiscono a regolare la pressione arteriosa. Il buon rendimento dei reni può essere inficiato primariamente da un'alimentazione scorretta. Infatti, un consumo eccessivo di proteine, alcol, calcio, caffeina o sodio può favorire la formazione di calcoli renali e altri problemi che possono pregiudicare pesantemente la capacità del fisico di autopurificarsi. Ingredienti 3 fette di ananas 2 mazzi di prezzemolo 60 g 4 tazze d'acqua 1 litro Utensili Frullatore Preparazione Taglieremo le 3 fette d'ananas in piccoli pezzi. Triteremo poi i mazzi di prezzemolo. In seguito, aggiungeremo acqua nel frullatore assieme a tutti gli altri ingredienti e frulleremo per 4 minuti. Si consiglia di ingerirlo nel corso della giornata. Proprietà del prezzemolo per i nostri reni contiene sali minerali come calcio, fosforo, ferro e zolfo. E' ricco di clorofilla, combatte l'alito cattivo, aiuta a depurare il corpo dalle tossine e dai grassi in eccesso. Fornisce vitamina C, previene il cancro e aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Vi consigliamo di non tralasciare questa opportunità. Cominciate oggi stesso a disintossicare i vostri reni in modo efficace, salutare e naturale.